12 luglio 1982 la New Time Music inizia un nuovo discorso musicale a Napoli 12 luglioätta Grazie. 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 Ip Man Bobby Martin Scott Tunis And Steve Vai Are you ready? That's what I thought I'd be moving through my team And Steve Vai Just to raise me up my roof Went to a floor Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti